A quanto pare i rapporti fra Giorgio Manetti e Tina Cipollari non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli che erano una volta. Infatti se prima era tutto un cinguettio di adorabili sensi, adesso i due non si possono vedere. Questo si evince dall'ultima intervista rilasciata dallo stesso Cavaliere Fiorentino al sito TAG24 dove oggettivamente Giorgio Manetti ha detto delle cose che hanno stupito dato il precedente rapporto fra i due A quanto pare i rapporti fra Giorgio Manetti e Tina Cipollari non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelli che erano una volta. Infatti se prima era tutto un cinguettio di adorabili sensi, adesso i due non si possono Questo si evince dall'ultima intervista rilasciata dallo stesso Cavaliere Fiorentino al sito TAG24 dove oggettivamente Giorgio Manetti ha detto delle cose che hanno stupito dato il precedente rapporto fra i due Inoltre l'esperto di gossip di uomini e donne Amedeo Benza, svela che i rapporti fra Tina Cipollari e Giorgio Manetti sono pessimi da tempo Sono lontanissimi i tempi in cui Tina e Giorgio si mostravano affiatati e amici sui social Il rapporto si è man mano sgretolato e Giorgio da quello che avrebbe confidato ad alcune persone pare sia rimasto male Del fatto che Tina non gli risponde più ai messaggi che lui le manda Anche a un semplice come va la nostra amata Tina avrebbe ignorato i messaggi o risposto dopo diversi giorni È così che il gabbiano avrebbe colto l'occasione per attaccarla Che galantuomo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!